Ciao a tutti qua da Robi2394 e continuiamo Medieval 1 Ah, quindi, la gola delle zucche Vediamo un po' Salve, salve, no, non voglio lo spadino Voglio il super martello della vita Ottimo con una vita, non credi? Ahia Morite, 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 morite Qual è? Qua? Ecco, me lo ricordavo Che c'è il calice qua sotto Eppure sto figlio di buttana Che mi deve fare passare, grazie C'è qualcosa? No Ah, qua ci sono bombe esplosive incredibili Oh, quanto è lungo sto tunnel Però non mi voglio scordare Oh, le Morite tutte E poi mi servite per prendere il calice Non c'è altro? Non c'è altro? No, ok Allora prendiamo l'altra strada Che si arriva prima Intanto non voglio Devo morire tutti Ciao Ok Ah, gara zucco Eeeh, vabbè Sì, ma non ti fai le finte Non ti fai niente Questo è acquarico Vabbè Oh Secondo me Ecco Eeeh, io mi paro stavolta Minchia, troppo Lo scudo Ho rotto lo scudo Merda, merda Non mi avrete mai Non mi avrete mai Perché mi ha preso? Calma Vabbè Perfetto Soldi a mai finire Che non guastano mai Qua Non posso fare niente Perfetto Eeeh Lo sapevo Che c'era qualcosa Tu con sto pene di zucca Mi fai paura Quindi Andiamo qua Aspetta Così sta salendo Boh Credo che sia Perché Qualsiasi cosa sbatte Non so Se sta salendo Spero di sì 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 Sto salendo Olè Dunque Dunque Quindi questa Dobbiamo mettere Per forza Qui Ottimo Ottimo Sì però Io sono senza martello Io sono senza martello Vi ricordo Io sono senza martello Vi ricordo Vuoi che esportino Non me ne frega Assolutamente un cazzo No Ho sbagliato tutto Ok Se lo so che è pericoloso Qua Scusate ma Ma butta a morire In maniera così Cogliona Calmo Minchia Oh no No Fermo Bravissimo Olè C'è qualcosa qui Guarda come si fa a colpire Non vedo cazzo Dunque Ma è che avrei bisogno Un po' di vita Ma ma perché Perché ha sti problemi Tutti in faccia Prenditeli Faccio un party Vai Vai Distruggi Cosa c'è qua Ottimo Olè Cos'è questo Sì Se non li prendo Non sono contento Ottimo Ecco No Mi paro Mi paro Forse Vieni 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 Bravo Ok Però Se ci sbrichiamo Magari Posso prenderlo Yeah Dunque Mettiamo questo qua Proviamo 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 ad andare di qua Eh C'ho lo scudo Zio Ok Zuc Zuc Assassine A mai finire Se avrò bisogno di altri Invinci Mi devo andare a prendere Il calice Ci siamo quasi Eccolo Ok Andiamoci a prendere Il calice No Tu dove spunti Corri Dove corri Me lo devi spiegare Beh io sono pazzo La Ma che Scusate Ma non ci stavo Come un coglione Perfetto Perché guardate Ora lo faccio senza problemi Ogni tanto gli prende Ha dei raptus improvvisi E non riesce a funzionare La tastiera Il tasto non lo prende Intanto qua c'era Sta cosa Io manco l'avevo vista È una droga Giuro Come Come Spiegamelo Dunque 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 Devo andare a prenderci Il calice Gasmi Multiple Intanto Daniel Giù Magari lo prendiamo Grazie Che pallo Ora Farsi tutta la strada Ma mettetela Alla fine Il calice Non all'inizio A meno male Che c'è sto Mini turbo Qua Non ci prendo Mai Da lì A parte più difficile Del gioco Superare Belli Se sassi Come questo Ciao Come mi dici Prostratevi tutti Di fronte Alla signora Dell'orticello La pianta Grazie a piena Che può radunare Un esercito Di cavoli Con un solo Cello Del nobile Viticcio È deliziosa E nutriente È la ricetta Segreta Di Zaro Ecco Il re Zucca Ah Va bene Come ti sei tu Ma io prima Devo andare Alla cosa Degli eroi Vediamo Stavolta Chi c'è No Arrivo Eccomi Eccomi Tu mai Se di nuovo Quello No Che tu E allora Chi Non l'ho capito Dove Dove voglio Forse ora Posso andare su Ah Ora posso andare su Salve Tete Tete Dani dimmi Cosa deve fare Una regina Guerriera Per incontrare Qualcuno Come te Non essere timido Ragazzo Ho visto Che mi guardavo Ma che problemi ha Ma che problemi ha Cioè c'è una statua E uno scheletro Adesso apri bene Le orecchie Zuccherino Il tuo arco E le tue frecce Vanno bene Per i lavoretti Ma se vuoi fare Certo Daniel Come fai a resistere A una faccia così Certo La lancia Suona malissimo Lancia Sì ma io voglio C'è poi questo Sto tizio Sto centauro Chi è Phil Boo Gente scognita Pimpi 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 Perfetto Perfetto Allora continuiamo quindi Dovare le zucche Serpente delle zucche Serpente delle zucche E' giù che se vuoi ottenere dentro questa pianta regale Deve ridurre il poltia e i suoi bacini Stanno tutti baci Ah ok Sbaglio ho visto qualcosa Sì Che palle sta inquadratura di merda Qua che dice Sono in assenza di zucche Ce l'ho Ok Sempre Ma che cos'è sta cosa? Di zuccone Ha una cattiva influenza sulle piantine giovani Se mi dai una bella lezione ti faccio un bel regalo Ah c'è da erbolina Qua ci posso andare no? Oi Ho il super scudo Ah ho colpito senza volerlo Merda No devo affrontarla a tutti i costi Minchia Zucche incredibile Ok Che cosa è successo? Chiaramente mi prendo la vita Però io voglio incontrare anche nemici normali Minchia sì Beh eccoli qua Perché così poi mi prendo il calice Porco cane E' stata le camera di merda Oh Dico no Ah proprio Vabbè Che cazzo è successo? Ah ma perché c'era la zucca di merda? Dai Ah che l'ha vista L'ho dimenticata A parte prendermi un altro po' di vita Che ho dimenticato? Qua no Qua è da dove vengo Qua sicuro Olè Resta un bacello Ma Che non è che resta un bacello Dove l'ho dimenticato? Boo Allora Facciamoci un giro No 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 Niente Ah Direttamente è lì Sei incazzato Sei incazzato Che sei brutta zia Zia No Ah Allora Proviamo Allora Proviamo Ma veramente? Niente Ah Basta La retta Ancora Mi dicono Un boss Piuttosto È difficile È difficile Già Infatti si vede la sua resistenza nel non voler morire Si nota proprio perché è forte e resistente Ok Ok però Basta Sei morto Tanti È inutile Attilamente Quindi Che cazzo vuoi? Madonna Che fine Che ha fatto Rip Secondo me era qualcuno incazzato Ah Respawnono All'infinito Ecco Perfetto Manco devo fare fatica Yeee Perfetto No Non mi posso tuffare No Magari Salve Grazie 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 Eh già Cazzo Cazzo Rili Gemma di drago Ah vero Mi posso buttare C'erano tutte ste cose Veramente Salve Posso parlarle Che cosa era quella cosa? Ah Un carice Ah Va bene così Minchia ho troppi soldi A saperlo Ok Ora devo soltanto Ora è l'uscita Che mi pare Di averla vista Qui può essere Grandissimo Oleh Dunque Ora dove devo andare In quale dei tanti Non ti orgasmare Col tavolo Che ora c'è pure sopra Quindi Tu no Tu nemmeno Oh Salve Tu sei una statua Non potresti nemmeno Parlare Mi fa abbastanza piacere Che cos'è? Yeah Addirittura Megoglioni Ma perché accetti Se o no Dico no Che succede? Congratulazioni A dire il vero Non sei della mia stessa stirpe Beh non sono centauri La rivista Ma hai qualche speranza Figata Arcol Quindi ora ho un bordello di armi Ma che cazzo servono Le cosce di pollo? Che serviva Forse doveva attirare i nemici E poi esplodevano Comunque Scomparso così Salviamo sì 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 Salviamo Salviamo Salvo in tutti i modi Ok Quindi non posso più andare di qui Quindi il prossimo obiettivo Sarà Il villaggio addormentato E ci vediamo quindi Alla prossima parte Ciao